Uno striscione esposto ieri al Paracarrara di Pistoia recitava non puoi vincere a Pistoia, al massimo puoi segnare più punti. Ed è esattamente quello che è riuscita a fare l'Olimpia ieri sera, segnando 78 punti contro i 72 segnati da Pistoia. Ben trovati amici a Olimpia Improvvisa Passione per il commento della partita di campionato Pistoia. Olimpia Milano, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nulla delle nostre proposte e dei nostri contenuti. A cominciare da questo, da questo commento al quale vi invito a lasciare un ulteriore commento, una vostra opinione, un vostro pensiero rispetto alla partita di ieri e rispetto all'Olimpia che è riuscita appunto a segnare più punti in quel di Pistoia e a riportare una vittoria che arriva come un balsamo, per quanto non così lenitivo, non completamente lenitivo, delle bruttissime sconfitte riportate in Europa durante la settimana, quindi con il Pana e contro l'Efes. Era importante sicuramente vincere ieri per ridare un minimo di morale perché il morale era decisamente sotto le scarpe e ci siamo riusciti pur con qualche passaggio a vuoto, così come ormai è solito per noi e con un'inerzia che anche secondo quanto detto dal coach di Pistoia poteva a un certo momento girare verso la formazione toscana e invece stranamente, purtroppo bisogna dire stranamente, l'Olimpia è riuscita a tenere, è riuscita a restare in partita e a non lasciarsi andare, quindi a non subire parziali deleteri come è successo in settimana, anzi è riuscita a piazzarne due di importanti parziali che sono quelli poi che alla fine hanno deciso la partita 13-0 all'inizio del secondo quarto e 11-0 all'inizio del quarto periodo. Sicuramente questo ha dato la svolta definitiva alla partita, vediamo poi anche appunto i quarti che non erano, cioè il primo, non era iniziato nel migliore dei modi, nel senso che è stato un po' incerto l'inizio di Milano con molti canessi sbagliati, anzi per i primi minuti si è segnato veramente pochissimo, per 3-4 minuti il punteggio era tipo 3-2 o 6-2, quindi l'Olimpia ha veramente faticato a mettersi in moto, mentre Pistoia ha iniziato sicuramente meglio, ma lo sapevamo perché ricordiamoci che qualche mese fa Pistoia è venuta al forum e grazie al nostro famigerato ormai terzo-quarto e anche quarto devo dire da tragedia siamo riusciti appunto a farci superare e a farci battere anche di un discreto margine, se non ricordo male. Invece ieri siamo riusciti a restituire il favore, così come ho intitolato questo videocommento, andando a riprenderci i due punti che avevamo lasciato sul terreno appunto qualche mese fa al forum. Pistoia forse ci credeva, Pistoia forse pensava di fare l'enclan contro Milano in questa stagione, ma così non è stato, perché l'Olimpia ha fatto l'Olimpia, cioè, oddio, ha fatto l'Olimpia, ha fatto un po' di Olimpia, perché comunque si può sicuramente sempre migliorare, come anche poi leggeremo nelle parole di Messina, che ha individuato, o almeno ieri, ha individuato il motivo per cui, cioè il motivo che ci porta a fare molto male, quindi al fermarsi al tiro da fuori, al non provare a entrare in area, ma questo lo sappiamo, perché ovviamente se noi ci accontentiamo del tiro da lontano, se entra va tutto bene, quindi vinciamo anche di 40 punti di distacco, ma se non entra, il problema c'è, perché ovviamente sono tutte occasioni perse e sul ribaltamento di fronte la squadra avversaria difficilmente perderà tutte le occasioni che noi stessi le offriamo. Quindi questo, ok, può essere una spiegazione, ma sicuramente l'atteggiamento, la voglia, insomma, di fare bene, di dominare, di vincere, di spaccare tutto, oserei dire, perché in certi momenti anche ieri per esempio Melli in alcuni momenti, a parte il fatto che si è fatto anche stoppare, quindi alcune cose che fanno male, ma in alcuni momenti non aveva la decisione, la rabbia, la cattiveria agonistica utile e necessaria per andare a mettere questo benedetto pallone in fondo alla retina. Per contro ha fatto molto bene Voigtman, così come vedremo tra poco. Voigtman ieri sera sicuramente una prestazione molto migliore rispetto alle ultime, se non altro dal punto di vista dei rimbalzi, perché ha preso un sacco di rimbalzi e quindi rimbalzi difensivi ci hanno molto aiutato a non concedere le seconde possibilità a Pistoia e a poter ripartire non sempre in contropiede, perché noi non siamo sicuramente una squadra che corre tantissimo e ora che ci portiamo dall'altra parte la difesa avversaria è già bella che schierata. Va bene, comunque i parziali dicevo 24-21 nel primo quarto, 9 punti solamente concessi a Pistoia nel secondo quarto contro i nostri 20 e già questo ha indirizzato la partita nel senso che siamo andati a riposo sul 41-33, quindi con un più 8 sicuramente incoraggiante, ma all'inizio del terzo periodo sicuramente Pistoia si è rifatta sotto con le sue guardie che sicuramente sono quelle che ci hanno fatto male anche all'andata, quindi Moore e soprattutto Willis se non sbaglio, comunque adesso andiamo a vedere come si chiamava quello perché ho la tendenza a dimenticare i nomi se non si fosse capito. Terzo quarto, quindi infatti il partiale è sicuramente positivo per Pistoia, 23 a 16 punti e il nostro 21 finale contro i loro 16. Le statistiche complessive recitano 30 su 63 di tiri totali realizzati sui tentati per l'Olimpia contro i 26-62 di Pistoia. 22 su 46 da 2 e 8 su 17 da 3, quindi sicuramente un'ottima percentuale da 3 che sfiora il 50%, che è quella sicuramente che ci ha aiutato, ma quella aiuta sempre e tutti, mentre i 14 su 31 da 2 per Pistoia contro i 12 su 31 da 3. Sicuramente le loro percentuali sono leggermente inferiori alle nostre, tiri liberi, 10 su 11 per noi e 8 su 14. Ecco, loro hanno sbagliato molti tiri liberi e noi invece abbiamo fatto miracolosamente bene. non mi ricordo che ha sbagliato l'unico tiro libero perché ieri la partita c'è da dire che l'ho vista sì e no perché c'era un altro appuntamento importante ieri sera in quel di San Siro dove è successa una certa cosa ma sappiamo bene che non è alla fine successo niente perché la strada è ancora molto lunga. Rimbalzi in attacco 12 a 10 per loro, in difesa 25 e noi 21 sono loro quindi in forza cioè in virtù anche appunto del contributo determinante di Voigtman in questo fondamentale, in questa voce quindi rimbalzi totali leggermente a favore nostro. Assist 14 a 12 per loro stoppati 5 a 2 per loro palle perse 12 nostre 15 loro e c'è stato un periodo però della partita in cui abbiamo perso un sacco di palloni tra passaggi sbagliati soprattutto Neppier che quando vedevo queste cose mi chiedevo ma questo dovrebbe essere un play? Il play dovrebbe far girare il pallone quindi far arrivare il pallone al giocatore designato e comunque darglielo in un certo modo non buttarlo a caso per aria e sperando che poi qualcuno lo prenda ecco lì diciamo che non ha particolarmente brillato ma infatti Neppier ieri sera non ha non ha fatto la sua miglior partita diciamo così palle rubate 10 a 7 per noi e farle personali 17 pari andando a vedere quindi le statistiche personali dei giocatori sicuramente appunto abbiamo detto che le loro guardie hanno fatto molto bene quindi Moore 21 punti anche Varnado giusto me lo dimenticavo l'avevo rimosso 20 punti e Willis 17 mentre il nostro miglior marcatore Shields che all'inizio ha fatto un po' fatica ma nel terzo quarto quarto sicuramente si è acceso in 26 minuti 17 punti e un rimbalzo 3 su 6 da 3 e 3 su 7 da 2 e 2 su 2 ai liberi Voitman abbiamo detto 10 rimbalzi che sono quelli che ci hanno aiutato moltissimo 11 punti e 4 assist in 27 minuti 5 su 7 da 2 e una tripla sbagliata ecco il libero sbagliato di Voitman 1 su 2 da 2 Maudolo anche lui inizio faticoso difficoltoso ma poi nel secondo tempo molto meglio 9 punti ha fatto delle penetrazioni ha sicuramente contribuito a far girare il pallone ma le sue azioni in solitaria sono state apprezzabili e per uno che è stato fuori un mese due mesi non lo so quanto è il modo migliore per ritornare ad acquisire feeling con il parquet quindi 9 punti 1 rimbalzo e 3 assist in 23 minuti quindi ha giocato anche relativamente tanto per essere di rientro dall'infortunio ricordiamo che ieri le scelte tecniche di Messina hanno visto esclusi Poitres e Mirotic Mirotic in particolare secondo il piano di rientro dopo infortunio quindi dopo i minutaggi controllati delle partite della scorsa settimana e di domenica scorsa quindi Mirotic ha riposo ieri per non diciamo rischiare ecco e poi Per scelta ovviamente di turnover tra i 12 convocati non è stato utilizzato Caruso e non è stato utilizzato nemmeno Bortolani i famosi italiani che ci avevano dato tanto nelle scorse settimane magicamente adesso sembrano essere stati un po' dimenticati infatti leggevo da parte di qualcuno che quando Messina aveva gli uomini contati ovviamente doveva far giocare quelli e solo quelli e infatti l'Olimpia ha fatto abbastanza bene ora che stanno rientrando gli infortunati e ha più scelta gli italiani sono in panchina e l'Olimpia sicuramente in Eurolega ha fatto davvero piangere la prestazione da segnalare sicuramente di ieri è quella di Pippo Ricci che 9.6 rimbalzi anche per lui in 13 minuti con 3 su 3 da 3 sì giusto 3 su 3 da 3 ed era molto tempo che non vedevamo un Ricci così determinante un Ricci così positivo e speriamo che dopo il momento il passaggio a vuoto avuto nelle ultime settimane possa invece ritornare a darci il contributo fondamentale che ci aspettiamo anche da lui all 8 punti 2 rimbalzi un assist Heinz anche lui ha fatto delle cose preziose delle stoppate delle mani messe nella linea di passaggio del pallone per evitare che il pallone arrivasse al destinatario quindi 6 punti e 4 rimbalzi anche per lui Melli forse è di nuovo in una fase calante perché 6 punti 3 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti 3 su 6 da 2 diciamo che ho visto partite migliori di Melli Napier peggio che peggio 5 punti 2 rimbalzi e 2 assist Flaccadori così così 4 punti Tonut 3 punti con una sola tripla a a referto e sicuramente però difensivamente ha dato il suo contributo quindi complessivamente un'Olimpia sicuramente sufficiente anche oserei dire un 6 e mezzo soprattutto dopo le prove della settimana era necessario arrivare in questo modo e riportare a casa i due punti e andando a leggere le parole di Messina il coach di Milano dice credo che abbiamo giocato una partita di buon livello contro una squadra che sta producendo una bella stagione ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene e costruito vantaggi significativi poi sono successe due cose importanti nel terzo periodo come purtroppo succede ci siamo un po' incartati ma siamo stati bravi a limitare i danni e nel quarto periodo abbiamo ritrovato un buon equilibrio andando a giocare sotto canestro appoggiando la palla sui lunghi arrivando al ferro i momenti negativi sono quelli in cui abbiamo un comune denominatore che ha la tendenza a restare sul perimetro a tirare da tre a giocare in isolamento o solo in pick and roll invece dobbiamo andare dentro come abbiamo fatto stasera contro una squadra che comunque ha giocato una difesa fisica energica mettendo sempre un corpo forte sui nostri giocatori migliori per cui siamo contenti di aver giocato una buona partita ecco questo dovrebbe servire anche in Europa peccato che in Europa non trovi con tutto il rispetto Moore Varnado e Willis Saccaggi della Rosa e compagnia cantante ma trovi trovi i giocatori appunto delle squadre più forti quindi Larkin quindi Bobois quindi Plyce per fare tre nomi dell'Efes piuttosto che Vildosa piuttosto che Lessort per parlare di qualcuno del Pana quindi noi a caso e ricordiamoci che giovedì 8 febbraio al forum arriva una certa squadra una squadra che sta facendo un campionato a sé il Real Madrid con il nostro amore eterno e indissolubile Ciacio che sarà comunque si giocherà sarà comunque una gioia a prescindere per gli occhi rivederlo a Milano seppur con la casacca della squadra avversaria però sono convinta che il forum sarà tutto esaurito giovedì proprio per rivedere il nostro idolo incontrastato chissà se riusciremo a tenere testa al Real Madrid perché comunque oltre al Ciacio c'è Tavares c'è Rudy Fernandez c'è Musa il nostro caro il giocatore tanto caro ad Alan insomma tutti gli altri campioni che contro i quali servirà certo un qualcosa in più ma non è certo questa è la partita dove possiamo sperare di portare a casa i due punti o meglio non dobbiamo partire già vinti non dobbiamo partire già sconfitti ma certo ci rendiamo conto dell'impegno molto difficile che ci aspetta per quanto all'andata almeno nel primo tempo abbiamo tenuto testa al Real Madrid perdendoci poi nella seconda parte di partita dove ovviamente il Real Madrid ci ha ci ha superati surclassati e battuti comunque nell'attesa di di giovedì 20 e 30 Olimpia Real Madrid pensando poi anche alla partita di domenica prossima tra Olimpia e Brindisi alle 17 al Forum quindi doppio turno casalingo per questa settimana quindi meno viaggio più tempo per lavorare più tempo per riposare e questo sicuramente è importante quindi detto ciò è una partita che sicuramente ci portiamo a casa ah no ecco la cosa che mi dimentico sempre è la classifica anche perché non è ancora finito il turno di 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 campionato perché stasera tanto per cambiare la Virtus ha chiesto lo spostamento della sua partita domenicale a questa sera contro non mi ricordo contro chi contro andiamo a vedere contro la Virtus stasera giocherà contro Treviso ecco contro Treviso e quindi appunto dobbiamo aspettare di capire che cosa succederà stasera per vedere se l'Olimpia si riconfermerà al secondo posto in in comproprietà diciamo così tra Virtus e Venezia perché ricordiamoci che Venezia sabato ha perso ha perso sorprendentemente a Reggio 77 a 60 quindi una sconfitta anche di un certo spessore mentre Brescia continua la sua cavalcata ha vinto a Napoli per 104 a 83 quindi con un'altra grande prova d'attacco soprattutto del suo della sua guardia migliore credo Massimburg che fa veramente fa punti ha fatto forse tipo 23 punti sabato o 21 o 23 punti quindi un giocatore veramente degno di nota quindi Brescia prima Virtus seconda insieme a Olimpia Venezia con Virtus con una partita in meno Reggiana con basket Napoli 11 8 Scafatti e Trento 19 Trento che ha vinto ieri con Varese e mi spiace per Varese perché ero contenta che da quando era arrivato da quando è arrivato Menion si era un po' risollevata però sta tornando al trend negativo con tre sconfitte nelle ultime cinque partite Pistoia abbiamo detto appunto nona dopo la sconfitta di ieri con 9-10 insieme a Tortona che ha vinto ieri contro Brindisi vabbè poverino Brindisi perde con tutti attenzione che arriva a Milano il forum domenica io lo dico così almeno lo sappiamo e Tortona sta facendo molto bene con il neo allenato ormai da più di un mese è arrivato De Raffaele Cremona e Sassari 8-11 Varese 7-12 Treviso Pesaro 5-13 e Brindisi 4-15 sono solo 4 vittorie e 15 sconfitte per quanto non era per ultima Brindisi abbia vinto contro Pesaro ah ecco infatti anche Pesaro poverino è messa un po' maluccio quindi per adesso noi siamo al secondo posto e speriamo di rimanerci ma adesso francamente conta veramente poco e pensiamo a giovedì che speriamo di fare quanto meno una figura decorosa dopodiché penseremo poi al campionato e soprattutto settimana prossima il 14 inizieranno le final 8 di Coppa Italia quindi l'ultima partita di campionato domenica poi per tre settimane ci sarà la pausa anche perché dopo la Coppa Italia ci sarà la nazionale quindi tre settimane di stop che per l'Olimpia varranno relativamente nel senso che in nazionale sono stati convocati sei giocatori milanesi Melli Tonut Ricci Bortolani Caruso e me ne manca uno me ne manca uno non mi ricordo flaccadori credo se non mi sembra di ricordare che siano praticamente tutto il nostro parco italiani e quindi i loro poverini non avranno nemmeno in questa occasione modo di riposare però almeno gli altri avranno tempo di lavorare di riposare e di rimettersi un attimo in quadro per le ultime partite di Eurolega perché a quel punto mancherà un mese ma l'Eurolega sappiamo che insomma salvo miracoli ma miracoli con la M maiuscola quella per i quali bisogna andare a Lourdes o in qualche altro santuario italiano o europeo meglio europeo visto che stiamo parlando di Eurolega sarà molto difficile agguantare gli stessi play in e vabbè pazienza questa quest'anno è andato così o perlomeno anche quest'anno è andato così e e va bene non importa per questo commento è tutto io vi rimando a al oddio il commento di Real Madrid Olimpia questa è anche la settimana di Sanremo quindi vediamo che cosa riusciremo a fare però Olimpia e Real Madrid sicuramente sarà una partita da da vedere sicura da vedere e quindi vi rimando al commento appunto di Olimpia Real Madrid nei prossimi giorni e poi a domenica ma per quello ci sarà modo di parlarne vi ringrazio per essere stati con me vi ricordo ulteriormente di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere tutte le nostre proposte soprattutto questa settimana che ci vede impegnati sul fronte sanremese e ci sarà molto da dire e soprattutto da ascoltare speriamo quindi grazie ancora lasciatemi i vostri commenti se volete le vostre opinioni sotto questo video commento e ci vediamo al prossimo appuntamento con Olimpia Previsa Passione alla prossima grazie ciao